Ancora un mese di ascolti e di gratificazioni. Anche ad ottobre Teleuniverso è stata l'emittente TV più vista del Lazio, secondo i dati Auditel. La media parla di 79.616 telespettatori, 79.000 e più telespettatori che ci hanno preferiti e a cui diciamo grazie. Andando come di consueto a leggere i dati, notiamo come i contenitori di informazione abbiano giocato un ruolo determinante. A partire dalle 7.30 del mattino, quando insieme a voi sfogliamo interattivamente i quotidiani del giorno, grazie al nostro touchscreen. Dopo una piccola pausa estiva, i telespettatori hanno riscoperto l'importanza della rassegna stampa per essere sempre aggiornati. L'aggiornamento costante attraverso i nostri telegiornali è appuntamento fisso, sia a pranzo che a cena, con una predilezione in termini di numeri per il Tg serale, quando si torna a casa dal lavoro e la famiglia si riunisce attorno al tavolo. Ben distribuiti i numeri dei telespettatori su tutto l'arco della giornata ed anche durante la settimana, con una menzione d'onore per la domenica pomeriggio. Importanti infatti sono le presenze davanti alla TV registrata nella fascia oraria 15.18, quando vi accompagniamo alla scoperta dei risultati sportivi dai principali campi di calcio e non solo del Lazio. Da segnalare anche quanto accade il giovedì sera, in prima ed in seconda serata Teleuniverso offre due contenitori d'approfondimento in successione, a porte aperte e vista sul golfo, che si attestano come i talk show principali del palinsesto. Grazie.